Questi sono dei testi un po' difficili, no Francesca? Perché poi di fatto veniamo intanto da un periodo umanamente complesso, abbiamo una guerra alle porte, c'è anche una guerra nel mondo e personalmente ne ho annoverate almeno due sempre, ne ho annoverate appunto due, come si fa a far ridere in questo contesto? Allora, chiaramente io non sono di quelle persone che pensano che si possa far ridere su tutto, per esempio un grande che è Ricky Gervais, che è uno che fa palco da solo, è un grande, fa stand up proprio, lui ritiene, è molto pesante, poi è molto bravo per carità, però a volte diciamo ha un po' una pesantezza nel voler proprio fare l'equazione che si ride su tutto, malattie, lutti, guerre, non sono d'accordo. Perché per esempio sulla guerra è una tragedia umana talmente grande che noi secondo me non ci rendiamo neanche conto perché ce la siamo lasciata alle spalle con la memoria dei nostri nonni, dei nostri genitori, il concetto di… Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento nel nostro salotto digitale e quest'anno ci sono davvero molto molto onorato e felice di avere qui con noi la mitica, la spumeggiante Francesca Reggiani. Ciao Francesca, come stai? Buongiorno a tutti, bene, grazie. Francesca, noi solitamente ti troviamo in tv, ti troviamo in teatro, adesso posso trovarti anche in un altro luogo, ti possiamo trovare anche in libreria con un libro davvero molto divertente che finché c'è attualità c'è satira, spettacolare, un libro che racconta un po'... Spettacolare, finché c'è vita c'è satira, ed è un po' una raccolta di pezzi che io ho pensato di unire insieme ad Enrica Cascina che mi ha aiutato a scrivere, insomma a tirare giù anche dei miei ricordi e a fare capire qual è stata la strada che ho percorso per arrivare poi a fare l'attrice. Cioè devi calcolare che quando ero ragazza io fare l'attore era uno dei mestieri più ambiti, capito? Quindi io non avrei mai pensato in effetti poi di arrivare a fare qualcosa e il racconto come da ragazzina ero molto molto timida, nel senso che ero abbastanza isolata. E oltretutto il primo giorno di asilo, il primo già per me, era un trauma staccarmi dalle mie quattro mura, diciamo così, c'era un ragazzino inglese che ora il primo o il secondo giorno di asilo, questo qui mi guardava un po' in cagnesco, era seduto vicino alla cattedra della maestra e c'erano una serie di piantine grasse. E improvvisamente questo mi guardava, ha preso una piantina, me l'ha tirata addosso e l'ha presa in bocca. Quindi la mia entrata diciamo in società è stata essere portata in ambulatorio con le pinzette perché erano quelli. Quindi da questo stato di timidezza un po' diciamo sotto agli altri, come può capitare poi dai ragazzini, dai loro scelte, non ne parliamo, quello che è stato il mio percorso di crescita fino poi a voler fare questo mestiere e finalmente poi riuscire ad entrare in questo mondo. Un mestiere che poi hai anche un po' ereditato, nel senso hai affinato anche grazie a tanti maestri che negli anni ti hanno accompagnato. Penso a Gigi Proietti, un nome tra tutti che tra l'altro menzioni anche all'interno del libro. Cosa ti ha effettivamente... Tutti hanno maestro, la Gerini per esempio potrebbe aver avuto verdone, dico per dire, per cui allora quello che mi ha dato Proietti è ben scritto nel libro. Il nostro rapporto è quanto è stata importante poi fare una scuola con dei maestri molto eclettici e molto feri, diciamo. C'era Ingrid Tulin che oggi non dirà nulla come nome ma è stata una grandissima attrice di Berman e Berman è stato uno degli autori del teatro scandinavo, del cinema scandinavo, molto importante a livello mondiale. C'è stata Rossella Falch, c'è stato Panelli, abbiamo addirittura fatto due giorni con Laisa Minelli. Perfume Currono le cose nel mondo, la Esaminelli oggi dice quasi nulla ai ragazzi. Beh beh no, spero di no. E' così. La memoria è l'abbia. E' vero che abbiamo la fortuna di trovare tutto quanto poi in rete, quindi capaci più possibilità di documentarci. Però le cose currono molto molto veloci. Quando ero una ragazza io lei aveva fatto per esempio da poco Cabaret che è stato uno dei film molto molto importanti in quegli anni. Adesso non mi ricordo se è stato candidato all'Oscar, probabilmente sì. E però ecco appunto ricordo questi due giorni in cui lei venne abbiamo fatto, ha fatto, abbiamo fatto, ha fatto dei seminari sulla, come stare in palcoscenico, come camminare in palcoscenico e anche l'importanza diciamo di, assieme a una serie di regole e tecniche per la parola quando sei in palco, l'importanza della musica e della canzone associato a questo. Ti ho risposto? Assolutamente sì, la tua è una carriera davvero poi molto luminosa e molto variegata. Ma volevo anche un po' chiederti, questi sono dei tempi un po' difficili no Francesca? Perché poi di fatto veniamo tanto da un periodo umanamente complesso, abbiamo una guerra alle porte, c'è anche una guerra nel mondo. E personalmente ne ho annoverate almeno due, sempre, ne ho annoverate appunto due. E come si fa a far ridere in questo contesto? Allora, chiaramente io non sono di quelle persone che pensano che si possa far ridere su tutto. Per esempio un grande che è Ricky Gervais, che è uno che fa palco da solo, è un grande che fa stand up proprio, lui ritiene, deve essere molto pesante. Poi è molto bravo per carità, però a volte diciamo ha un po' una pesantezza nel voler proprio fare l'equazione che si ride su tutto, malattie, lutti, guerre. Non sono d'accordo perché per esempio sulla guerra è una tragedia umana talmente grande che noi secondo me non ci rendiamo neanche conto perché ce la siamo lasciata alle spalle con la memoria dei nostri nonni, dei nostri genitori, il concetto di la paura, il terrore, il dramma che è la guerra. Soprattutto poi quando vai a bombardare sui civili eccetera eccetera. A me i miei mi hanno lasciato molto vivo questo fatto della guerra proprio perché è nato negli anni 60, tu capisci che insomma era da poco finita la guerra. Quindi rimaneva molto questa idea di miracolo della democrazia. Non si parla, io quando faccio lo spettacolo non tratto mai dei temi che possono essere tradici e drammatici per le persone, per le popolazioni. Quindi io personalmente nel mio spettacolo che oltretutto vado a fare stasera vicino a Chieti, tratto tutt'altro tipo di tema e cerco di fare un'ironia presente sul senso della libertà di parola, della situazione economica in cui siamo eccetera eccetera eccetera. Prendendo anche posizione, ma la butto abbastanza sul pop. A proposito di pop, è anche diventata virale una tua imitazione che contrappone due figure di fatto politiche, due donne importanti. Da una parte c'è Giorgia Meloni e dall'altra c'è il concetto di Gregorio che hai reso in maniera davvero molto divertente mettendo in risalto le differenze che ci sono tra queste due personalità. Che poi c'è anche della romanità all'interno che però viene declinata in maniera differente, no? Come sono nate queste tre? E' uno dei pezzi che troverete, che si trovano nel libro, l'intervista doppia, io ho visto perché è stata abbastanza improvvisata, a volte i pezzi sono, e a me anche piace, il fatto di avere una scaletta ma poi l'attore è libero diciamo di, riesce perché è una cosa rara, a me non riesce sempre naturalmente, però quando si è in grazia, come si dice, tu hai una capacità improvvisatoria, per cui da una scaletta che ho ben scritta lì, poi dopo pam 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 sono uscite tutte e due ed è una maniera molto, secondo me, anche seria, se vuoi molto divertente, ma anche seria di dire tante cose. E questo è un po' il senso della satira, la romanità non la vedo più di c'è, nel senso sono due figure romane, oddio, con Cittade Gregorio non credo nemmeno, ma insomma comunque tutto per dire che sul libro mi sono resa conto nel tirarla poi giù per bene, parola per parola, che funziona far ridere. Nel libro parli anche del tuo rapporto con la tecnologia, che è un rapporto un po' di odio barra amore. Adesso come sono evolute nel frattempo, le cose se sono evolute? Bisogna anche capire che ci sono persone che hanno vissuto la metà della loro vita in cui non esistevano i cellulari, lo smartphone, ma neanche, io figurati ho perso mia mamma abbastanza presto, mi ricordo che una delle cose che, una volta le dissi così, eravamo negli anni 80, mamma penso se un giorno potessimo tutti quanti uscire di casa, portandoci un telefono appresso che uno in mezzo alla strada risponde, ma guarda, ma che sei matta, basta a dire queste tupilaggini, invece poi a breve è stato così, quindi insomma, diciamo, con tutti i pregi che si hanno presso alla rete, ai social, eccetera, c'è naturalmente tutta quanta una parte, che per una parte di popolazione è complicata, lo speed, la pecca, il pullback, le persone che sono persone che si chiama alla posta, aspetta un'ora e mezzo o due perché non è capace a prendere, ma se la signora è ottantenne gli vai a chiedere di prendere appuntamento, e se deve scaricare il sito delle poste, gli vai a termine scaricare, cioè è tutto un mondo per cui bisogna un po' studiare. Però che c'è tanti spunti di... E in qualche caso è tu, perché non riesco a fare una bella intervista in questo modo. Bene, assolutamente, ma poi tra l'altro dà anche tanti spunti anche qui, no, di quelle comici in qualche modo su cui ridere e ripettersi sopra, come tu giustamente sai anche fare. Però volevo chiederti, è difficile per un comico in qualche modo avere anche poi questo rapporto diretto con il pubblico, con gli haters spesso, perché uno può fare una battuta su qualcosa, adesso sembra che su qualsiasi cosa si tocchi, qualsiasi momento si tocchi, si vada a offendere qualcuno. Non lo so, se tocchiamo qualsiasi oggetto, c'è la soluzione X che dirà Ah, avete parlato di questo o di quest'altro? Cioè c'è un'autocensura che in qualche modo poi no ti blocca un po' di più rispetto agli anni, primi anni 2000, anni 90, insomma. Noi 90 non ne parliamo proprio. Certamente è il vero blocco, per cui siamo tutti quanti sotto una cappa di perbenismo se vuoi e cerchiamo tutti di essere, come si dice oggi, politically correct, è anche la rete, lo shitstorm, i social, capisci? Per cui se uno dice una cosa, poi dopo viene preso di mira. Se tu dici Piero Fassino, c'era in mente Piero Fassino? Sì. E vabbè, era un politico di qualche anno fa, pensa, del PD? Alto, alto, alto che sarà pesato 20 chili. Ora se tu dici Piero Fassino è magro come un chiodo, l'ultimo ad offendersi è Piero Fassino. Scendono in campo i magri e i chiodi che te 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 insultano per mesi. Quindi c'è anche questo, dire le cose con un garbo e però anche rivendicare una libertà di espressione, anche perché l'arte sta nel mondo, sta nella realtà e qualsiasi artista quando si esprime attraverso il suo mezzo, il suo mezzo naturalmente svela se stesso, prende posizione. Quindi è giusto che sia così. Ti faccio una penultima domanda prima di poi la nostra diritto. A proposito di spettafolare. Quindi ti parla la penultima. Questa è la penultima. Appunto, quella che ho appena fatto era la terz'ultima. E' l'ultima. Andiamo alla penultima. Spettacolare e inserita all'interno del libro come titolo, ma anche poi titolo di un tuo spettacolo. Qual è stato il momento sul palco, il tuo momento sul palco che reputi davvero spettafonare? Quell'esibizione, quel momento che hai vissuto, che dici questa, proprio secondo me è la mia espressione. Non dico massima perché sicuramente l'espressione massima arriverà ancora, pensando al futuro, però a quel momento è la mia espressione. Io cerco sempre di vedere, poi nella vita sono abbastanza per fortuna ottimista, per fortuna fiorona. Finora io non ho sviluppato nessuna tendenza alla depressione, che è un male anche dei nostri tempi. È pieno di gente che soffra di questa depressione. Io ho anche un autore che è bravissimo, che però ogni tanto va giù con l'umore, quindi figurati. Io penso che il meglio debba sempre arrivare e venire. Ci sono tanti momenti belli, bancoscenico, sicuramente i primi anni in cui io mi sono resa conto che al di là delle commedie, e poi al tempo io facevo parecchia televisione, però fai in mano questa bellissima sensazione di comunicazione con il pubblico e anche di piacere mio di esibirmi, perché penso che... Allora, io la prima volta con questo One Man Show giustamente era Proietti, Luigi Proietti, che è stato un grande attore ed anche è stato un maestro di tanti, no? Ma mai pensavo che avrei fatto questa storia, perché non tu c'è... Ci possono essere bravissimi, meravigliosi attori in battuta di commedie, di drammi, quello che ti parla, che però non hanno la tendenza, diciamo, allo show, no? Questo vuol dire che tu comunque ti esibisci davanti a mille persone come se niente fosse. Ecco, a me, io la volta che mi sono resa, ti senti proprio con un piede in una pantofola. Ecco, questo ricordo qua è un ricordo che sicuramente mi fa molto piacere e vado ricercando tutte le volte che entro in scena. Ultima domanda che è quella nostra di rito. Eccoci arrivando all'ultima. Noi ci chiamiamo Domani Press. Noi siamo una testata giornalistica attiva da otto anni che si propone l'obiettivo di riempire un po', no? Questa parola domani che si è un po' sempre svuotata di significato di un nuovo, significato di un contenuto magari culturale, sociale, voglioso di essere propositivo. Spesso il futuro è un futuro sempre, no, incerto, nebuloso. È importante riempirlo di contenuto per poterlo innanzitutto immaginare. E come ultima domanda, per esempio, il titolo del nostro magazine e chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti, come vede il Domani. Francesca Reggiani, quali sono le tue speranze e le tue paure? Così una frase, una suggestione. Ce ne ho fatto tre domande in una. Ok, per il vero tocchiamo incontri in cui chiunque di noi dovrebbe anelare alla pace. Ok. Ecco, io faccio un dal lato. E basta, semplicemente questo. Io vi ringrazio di questa intervista, sarò a Milano, Poi faccio Polonia, Giorno, va a amitare Torino e a fine mese Roma. Teatro Ambraio e Neve, che è molto bello. Perfetto, ricordiamo le date che saranno tutte quante inserite nel link in descrizione. Ricordiamo anche di inserire, mi piace, al nostro canale YouTube, c'è anche la nostra sigla che è solo Good Bikes che è possibile ascoltare. Quindi c'è un po' tutto. E io ringrazio davvero tanto Francesca Reggiani per essere qui con noi. Grazie Francesca, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buon oggi e buon domani. A tutti domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon oggi. Ehi, tu dimmi come stai, nel caso non hai 4G Wi-Fi. Sto iniziando una puntata e tu lo sai, domani presto, dimmi che ci stai. Ehi, tu dimmi come stai, nel caso non hai 4G Wi-Fi. L'indirizzo lo conosci, puoi cliccarlo, dai, domani presto, dimmi se ci stai. Guardiamo al futuro, ma è sicuro, guardiamo, commenti che giuro, guardiamo lontano. Domani presto, come vi di domani, ti prego, guardiamone senza stress, andiamo a fatti, seguiamo i tani, quali sono le tue speranze per il futuro. E spero che ce ne sia uno, domani presto, è il mio canale per ascoltare. Tu scriviti, non te ne pentirai, te ne assicuro, domani presto, domani presto, domani presto, domani presto.